...con un tema lungamente dibattuto a proposito di caporalato, validare i voucher preventivamente all'utilizzo, oltre che fare in modo che periodicamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rediga un rapporto annuale sullo stato di attuazione alle competenti commissioni parlamentari, dell'attività svolta da questi organismi. Ci sembrano interventi migliorativi, condivisi da tutti i protagonisti della discussione di queste settimane. La ringrazio. Allora, se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'8.8. I pareri li ho già dati. Duva. Duva. Carrozza. Carrozza. Tutti hanno votato. La votazione è chiusa. Favorevoli 117, contrarie 260, la Camera respinge. Siamo all'8.7. Parere contrarie commissione governo di quinta commissione. Placido, deputato, prego. Sì, questo emendamento rappresentava il cuore della proposta che abbiamo offerto alla discussione del lauree della commissione e ci pare francamente che l'introduzione di questa correzione possa rappresentare un elemento assai qualificante della norma che stiamo per varare. Gli indici di congruità sono uno strumento che supporta le attività ispettive e che consente con periodici aggiornamenti prodotti dal Ministero del Lavoro di valutare appunto la congruità settore per settore dei beni e dei servizi impiegati in rapporto al numero di ore lavorate. In un'epoca in cui si taglia, per mille ragioni giuste e meno giuste, sulle attività ispettive, dotarsi di uno strumento di questo tipo probabilmente può rappresentare, mettere in campo uno strumento di grande efficacia per il contrasto del caporavato. Grazie. Allora nessun altro chiede di intervenire? La votazione è aperta. Parere contrario commissione-governo di quinta commissione. Grazie. Grazie.